Ebbene ragazzi, oggi siamo qui in una nuova location un po' particolare Comunque questo breve video è per dirvi che domani e dopo domani sarò al Games Week insieme a tante altre belle persone Come vedete è un posto un po' strano questo, che forse molti di voi conoscono o non conoscono Adesso andiamo a fare un attimo un giro veloce Qua dentro in pratica stiamo per far scoppiare qualcosa insieme a queste persone Tipo lui, lui vuole ammettere No l'ho messo, che volevo? L'hai messo? Certo che l'ho messo Ciao Ma cosa? Mi stai mettendo paura? Cioè ragazzi, ha messo una cosa di ferro, tipo le... Una cosa di stagnola dentro il forno al microonde Quando... Ma come era una cosa di male? Abbiamo messo grill Sì ma ti scoppia? Abbiamo messo grill Ah se il grill è ok L'importante è che non usi il microonde Ma stai... Boom Ma in cucina c'è un buone di buone Sfondi nella vicina Ho io paura a controllare Aspetta Qua perché esplode? Dopo praticamente tutti i miei panni li li metti dentro No, li li metti dentro Ah, io li ho fatto il favore di stendermi? No, non puoi stendere i panni sporchi, sei stupido Quanto è stupido sul ragazzo No, aspetta Cioè È freddo È perché il grill naturalmente prima che ti riscalda ce ne vuole Ah, metti dentro Metti dentro Metti dentro Ma c'è un forno qua? Meglio il forno No, no, qualche forno Ma per me ne metti due minuti Ma scusami Ma un piatto Madonna Eh? Io metto due minuti di solito L'hai messo uno ora Ah sì Non ha fatto niente Eh no, ti hai scaldato Adesso vedi scintille che spunta Sì, ora farà un po' di rumori Perché mi sono chiamato Siamo un piatto Allora ragazzi Se questo video comunque verrà caricato è perché In pratica sono vivo ancora E non è scoppiato nulla Vabbè, questa è la camera di Surry Mentre qua dentro È spawnata una ragazza casuale così Così, a caso Vediamo un pochettino allora se è scoppiato qualcosa Ma non è scoppiato Ma si piglia fuoco No, ma si piglia fuoco Ma si piglia fuoco Ma si piglia fuoco Ma prende fuoco? Qual è il problema, dai Ma non riprende questo del genere Ok, anche quelli di opiattina Deve dire così Ma neanche per la figura Non so in ordine Comunque ragazzi Ci vediamo allora domani a Games Week Ciao a tutti Ma... È scoppiato? Sì Non è scoppiato Siamo vivi